Ciao, ciao ragazzi, benvenuti a tutti, sono io. Oggi ragazzi stiamo andando sul forno e soprattutto da ragazzi buona in Italia che ti piace il 25-25. Allora, prima che vi dico i miei regali, voi ragazzi ci riesci al commento, perché oggi faremo becchi, voi l'avete già provato, è stato uno sciacco di battoli, di regali, di costruire e dura molto di più. Ma voi ragazzi ci sono in decina, anche se... Ok, niente ragazzi, ora vi parlo di cosa ho ricevuto e ragazzi ho ricevuto uno. Ho ricevuto un mio patto in elettrico e in omaggio ho ricevuto un monitor della OVEN, quindi se avete qualcosa in più, il bordo giallo è meglio, è il monitor che lo fa. Non mi sono io. E niente ragazzi, io lo voglio fare senza OVEN, perché tanto lo faccio sempre con la OVEN, quindi... Potremmo anche lasciarlo. Che... Se non sarebbe non gatti... Ah, no, è una pazza. Io... Allora... Allora... Io... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo qui. Il titolo di rumore è la mia nuova sostegna. L'edby, bellissima. Un giorno dove vi faccio vedere la mia nuova postazione. Perché Veronelli ho aggiunto molto però in un video magari alla fine lo posso anche farvi vedere. Però questo è un po' da voi ragazzi. Ok, andiamo qua. Guardate se la litio un po' ma il fratello mi ha guidato con le impostazioni. Mi ha messo queste queste queste. C'è qualcuno. Non c'è qualcuno, qualcuno. Quello che sono bloccato. Quello laggiù. Che cosa c'era? Che cosa c'era? Che cavolo è il mio occhio. Che stupido boccio. Ok. 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 A mezzo fai di più. C'è qualcuno. C'è qualcuno. non ci sono magari non ci sono ci sono ci sono Grazie a tutti. Oh, lei ha meccato a cercare? Io... Cagliato! Che cavolo è caduto? Ragazzi, siamo in un ultimo della partita. Il cavolo è finito. Allora... Allora... Mi scusate se era più generato a farci vedere fuori. Allora, dovrei fare un video reale? In questa casa mi diceva migliore, in questa casa. Però... Allora, spero di cercare. Quella alta e che... Che la potrei fare io. Io non ho mai fatto una in cui sto fiammando io. Però l'ho fatta una volta nella Switch che io vabbè non li sto raccontando la Sony. E... Non penso che ci serve qualcuno perché... Perché... Perché ci sono i bambini. Perché ci sono i bambini. Ehm... Se non sapesse cosa vuol dire pieno giù, vuol dire personaggio non giocante. Se vuoi che ti guarda il gioco, devi dire... Spandic e dire bot. Però... Diciamo... Pieno giù. Pieno giù. Pieno giù. Pieno giù. Pieno giù. Nessuno... O c'è una lamborghina. Vediamo quant'è di bambino che c'è una mia mia figlia. Pieno giù. Pieno giù. scusate, non vuoi dire c'è ma questo è uscito questo è uscito prima ragazzi scendiamo la strada immaginato se cerchiamo la strada in questa città dove eravamo prima poi possiamo andare in questa altra strada ci vediamo qua magari chiediamo qualcuno poi non ci vediamo non vuoi il titolo entroci per la piacetti grazie ragazzi non ho caricato i video ma ho avuto dei problemi e per un pochettino raga non ci sono più video per la web non ne ho voluto e già si è e adesso non mi è rimasta solamente quella di ho messo e muore perchè non ho voglia di riuscire a tutti ah ragazzi se volete un suon monopattino elettrico scrivano io vi ascolto e non ho voluto non volevo fermare contro quindi ci volevo mettere il aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah facendo di dispare non voglio il più che devo stare a andare verso gli dispare e di fare parte kill e di fare parte kill e di fare parte kill senza morire si si c'è qualcuno che si c'è scusate no era un lupo era un lupo no c'è anche uno che ci voleva mentre la squadra c'è da vi non se non 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 oh il test non voglio problemi dei rimuori ok adesso la metrietta il ciugno questo non ci sono in realtà non ci sono in realtà se no non ci sono in realtà adesso guarda in sinistra ma io vorrei una cosa e adesso andando bene questa partita abbiamo 5 treni mi sono impegnata per non perdere voglio fare una vittoria real e rec mi sono stufata di perdere sempre l'ultimo ragazzi fate il tempo per me ci sono ci sono ci sono ci sono un po' munizioni bene si 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 scuro bene così andiamo al 94% andiamo al 94% nella strada ragazzi allora scusate ragazzi non ho la webcam non ho la webcam quindi scusate adesso faccio sempre video con la webcam mi sono confusa perdonatemi mi sono accorto adesso non ho veramente stupido vabbè spero che mi abbiate qua ci sono dei risparmi non ho incontro di risparmi ci sono qualcuno c'è c'è un rogiano e se l'abbia già preso perché l'abbia già preso l'abbia già preso l'abbia già preso l'abbia l'abbia mi stavo giocando l'abbia l'abbia magari se l'abbia bisogna per qualsiasi cosa fossi ma io non li sono usati sono negati negati che sono tre anni che hanno lasciato è schifo vedo questo canno è tutto rotto no perché sono in pieno un cerchino o qualsiasi altro che mi ha avuto adesso qualcuno abbia costruito no sono proprio più no sono proprio più qui ci vediamo dei spari quindi vediamo le vibrazioni intanto devo andare a pulire i figli comunque devo andare qui so la giro vedo qualche furdino costruito oggi che fai no ce n'è la mattina lo voglio uccidere lo voglio io lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio raga uno di vita non so se l'avete visto non so se l'avete visto nemmeno io come ho fatto ma che sto sudando Gesù santo non so come ho fatto a sopravvivere mamma voglio scappare dopo aver fatto un incontro del genere non voglio più combattere con le ragni a te posso scappare io non mi prenderete mai sono a terra porca l'acqua scusate non mi prenderò perché ci non è il bianco e facciamoci questo aaaaah ok piazziamo questo qui ma che cavolo dove sei da la mia piattaforma ma ma vabbè 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 sì che qualche c'è là su magari mi sa che dopo di qui sta stato che non è che vuole fare molte battaglie reali ma questa partita sta durando non so quanto che vuole che c'è il bianco non mi sa più sull'acqua che è più conglie ma tutto è più veloce saliamo qua ci sta pianta le linee vai, via! ora ci fosse un cecchino qui è andata via devo salire di un'altra eh, proviamo a fare ok anzi non voglio muovere, tira ragazzi c'è sempre la stessa fine se muoio vediamo cosa lì va sembra un pompa leggendario perché mi ha fatto così male ma cavolo non ci faccio un pompa leggendario allora che c'era quella 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 da 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 dai il mio pompa no dai 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 da non ce d vittorio reale Mamma mia! Sììììììììììì! Mamma mia! Dopo una partita del Giè! No raga! Questo video lo dovete mandare tu tutti! Mamma mia! Ero molto! Meno male il mio campo leggendario! Oh! ragazzi sono fortunatissimo voi non mi vedete ma porca porca benissimo ma comunque ragazzi spero che ragazzi questo video ragazzi mi si è piaciuto io sono ragazzi felicissimi finalmente aver fatto una vittoria reale ma questo video giuro che me lo guarderò un miliardo di volte e niente ragazzi vi saluto ciao ragazzi ciao 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 ciao